5 settembre 2020, 10 anni dalla morte di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, il sindaco di Pollica e proprio a Pollica al porto di Acciaroli si è svolta anche quest'anno la festa della speranza. Un momento in chiesa per ricordare Angelo con la celebrazione eucaristica presieduta da Don Angelo Tabasco e poi la festa vera e propria, un momento per ricordare, un momento di riflessione, un momento vissuto con i tanti giovani che da tutta Italia sono accorsi qui a Pollica ad Acciaroli. Un momento importante anche perché c'è stata la presentazione del libro di Dario Vassallo e di Michele Iurillo, la verità negata, una verità che rivendica una giustizia che tarda ancora ad arrivare. Sentiamo dalle parole di Dario Vassallo il suo pensiero. È un 5 settembre come quasi tutti gli altri ma questo è un po' particolare perché con l'uscita del libro la verità negata facciamo un passo ulteriore verso la verità quella vera che noi pretendiamo, non chiediamo come un favore ma la pretendiamo perché sono milioni di italiani che la vogliono sapere e quindi che lo Stato faccia lo Stato perché la società civile sta facendo la società civile. Nel 2016 abbiamo portato Angelo Vassallo a Washington e forse sono gli italiani che sono un po' distratti e soprattutto c'è stata la volontà di non far capire alla gente quello che è successo ad Acciaroli e soprattutto quello che è la politica scarsa di questo territorio che ha rinnegato l'azione di Angelo in quanto come diceva Angelo albero caduto accetta accetta hanno spezzettato tutto quello che Angelo aveva creato e ne hanno fatto legna d'arte. Io penso che un giorno questi individui pagheranno anche per quello che hanno combinato in questi dieci anni e che il popolo cilentano dovrà soffrire altri 50 anni perché questa classe politica li porterà all'estinzione culturale. La politica del Cilento basta vedere l'approssimarsi delle elezioni regionali io penso che si rasenta la parodia. Qui siamo nel ridicolo, nel ridicolo. Uomini che non hanno mai fatto nulla per questo Cilento non solo che hanno fatto nulla ma se un parco ha messo sei anni per sostituire il presidente del parco del Cilento sei anni che la poltrona che era rivestita da Angelo era occupata da uno che faceva facendo funzione quello che era la funzione di Angelo. Sei anni. Ho denunciato al parco e alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania la distruzione di centinaia di nidi di rondina alla stazione di Vallo della Lucania la procura non mi ha mai risposto e il parco mi ha risposto che è una zona attigua e quindi non interessa al parco ma non sanno che la zona attigua è anche di pertinenza del parco. La distruzione di centinaia di nidi di rondina è penale io spero che la procura di Vallo della Lucania abbia il coraggio di aprire un'inchiesta anche su queste cose che sembrano banali ma non sono banali. Voi, voi, voi con questa politica vi siete mangiati il Cilento.